L'8 dicembre, il lungo ponte di quest'anno, hanno dato ufficialmente il via alla tradizionale corsa alle spese di Natale, anche se, come ormai accade negli ultimi anni, la crisi economica trattiene e frena ancora e molto gli acquisti. La conferma arriva dagli stessi commercianti del centro, negozianti, ambulanti, che nonostante tutto riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno. Mezzo, però, non tutto pieno. Un lungo ponte, secondo lei, sta agevolando e avvantaggiando il periodo pre-natalizio per le Venite? Forse sì, credo di sì. Movimento ce n'è, vediamo un po' nei prossimi giorni. Rispetto al passato? Non lo so, rispetto al passato. Mi sembra... quest'anno sembra un po' meglio rispetto allo scorso anno, minimamente meglio. Per ora deve ancora partire bene. Il periodo di attesa del Natale, il periodo pre-natalizio, deve ancora partire, secondo voi? Secondo noi sì, quello vero sì. Rispetto all'anno scorso, questo stesso periodo, rispetto all'anno scorso, in calo, in aumento? Più o meno uguale. Non è più come una volta, comunque discretamente. Speriamo nei giorni prossimi. Senta, rispetto all'anno scorso? Mi sa che sia quasi uguale. Quasi uguale? Non il boom che ci si aspettava, comunque speriamo bene, dai. Adesso c'è questo lungo ponte che intanto potrebbe portare qualcosa. Certo, siamo ottimisti, quindi aspettiamo. Dobbiamo essere ottimisti, via.